Confindustria Pesor Orbino riparte nel segno di Alessandra Baronciani. A meno di un mese dal commiato di Mauro Papalini dal vertice provinciale dell'associazione parte il quadriegno della capitana d'industria del gruppo Isopac, prima donna capo di Confindustria Pesor Orbino che guiderà il comparto fino al 2025. Al suo fianco Vittorio Livi e Gianmarco Scavolini in qualità di vicepresidenti, Flavio Tonetto alla presidenza della piccola industria, Davide Broccoli a quella dei giovani imprenditori. Una squadra con la quale la Baronciani ha presentato le linee guida di un mandato che convive ancora con la pandemia, con le difficoltà connesse al reperimento delle materie prime ma anche con le opportunità del piano nazionale di ripresa e resilienza. Sfide per il futuro saranno tante, soprattutto chiamiamolo post-covid ma ancora ci siamo dentro con le mani, con i piedi, con tutto però si aggiunge a questo il problema delle carenze di materie prime, il problema dei costi energetici che per le nostre aziende saranno molto penalizzanti, non sappiamo quanta inflazione genererà tutto questo, cercheremo di affrontarle, cercheremo di trovare il modo per risolvere almeno in parte, di stare di fianco alle nostre aziende associate, al manifatturiero in particolare perché questi sono problemi che purtroppo ha solo il manifatturiero che nel nostro territoriale pesa moltissimo, molto importante. Nel contempo avremo anche tante opportunità perché con i fondi del PNRR che intercetteremo è doveroso, in questo momento possiamo fare dei progetti molto importanti per evitare l'isolamento strutturale che il nostro territorio ha da anni e anche realizzare quei progetti che aspettiamo da decine di anni. I soldi non sono più un problema e quindi dovremo sicuramente affrontare queste cose. Il problema delle donne, dell'imprenditoria femminile e giovanile e un'altra cosa che affronteremo e ne abbiamo già parlato è quello del rapporto con la scuola, con l'università, stiamo partendo dalle elementari con la Confindustria Giovani che ha fatto questo progetto molto importante, io l'ho visto e sta girando nelle scuole, è arrivato anche alle medie, addirittura con qualche ritocco perché ovviamente è stato portato anche all'Istituto Bramante, hanno fatto un ottimo lavoro, un grande lavoro sta facendo anche la piccola in rapporti con gli studenti universitari e questo per il nostro territorio è fondamentale perché le aziende, sì ce n'è qualcuna che ha degli esuberi e questi cerchiamo di intercettarli con questo nuovo progetto che vi presenteremo a gennaio per intercettare chi cerca lavoro con chi ha degli esuberi e cercare di intercettare anche i fondi che ci sono per fare dei corsi di formazione che magari se servono i fresatori non servono i pizzaioli, è inutile che ci facciamo un corso per i pizzaioli, cercheremo di farlo, non sarà semplice però andiamo in quella direzione.